Il benessere passa inevitabilmente attraverso stili attivi e lo sport è il primo testimonia all'avverso di questa strada. L'intero movimento sportivo italiano, rappresentato dalle migliaia di associazioni, società sportive presenti in tutto il territorio, oggi sono qui in prima linea ad accompagnare i milioni di italiani che quest'estate hanno seguito, hanno fatto il tipo per gli azzurri in questa estate straordinaria di successi. E la presenza della Commissione Europea è molto importante, un supporto di peso perché ci può consentire di raggiungere la medaglia numero 110, tra Olimpiadi e Paralimpiadi abbiamo vinto 109 medaglie, ma noi vogliamo la numero 110, quella di far sì che lo sport possa radicarsi sempre di più nel territorio italiano attraverso una rivoluzione della cultura sportiva che possa poi portare ad un maggior numero di praticanti sportivi. Vorrei sottolineare, lo dico sempre perché è un dato dal quale dobbiamo partire, che in Italia come numero di praticanti sportivi siamo al quinto posto in Europa, siamo nella top ten del medagliare olimpico dal 1996, ma abbiamo questo dato che deve farci riflettere e dunque non esiste l'impossibile e basta semplicemente volerlo, tutti insieme possiamo dare una grande impronta per tracciare verso quella che vuole essere la nuova cultura sportiva con tutti gli italiani a praticare sport. Grazie.